Un'esperienza sicuramente interessantissima è l'esperienza coreana. Abbiamo iniziato tre anni fa a lavorare su progetti, format nuovi legati al mondo del cibo. La Corea è un paese che ha una grandissima capacità, che è quella di cercare di capire che cosa succede all'estero e quali sono le tradizioni, soprattutto legate al cibo, che possono avere successo a incontrare i gusti dei coreani. E questa è stata la prima analisi, lo studio di quello che sono le tradizioni del mangiare coreano, l'utilizzo delle spezie, il sistema anche solo di utilizzare un bar, dove il bancone bar non è assolutamente utilizzato per consumare nessun tipo di cibo, ma il bancone bar è solo ed esclusivamente un sistema per mettere in coda delle persone che vanno a pagare e vedono tutto quello che è il campionario di prodotti che quel bar è in grado di offrire. Quindi sarebbe un errore pensare, come faremo qui in Italia, che un bar possa essere attrattivamente interessante nel momento in cui il bancone ha un valore molto importante. Coreano valore le sedute, gli spazi, gli spazi di interrelazione fra le persone, la possibilità di rimanere a lungo anche seduto in un locale, quindi cambiano un po' le dimensioni degli spazi di seduta rispetto agli spazi di servizio. E poi c'è una grossa civiltà nell'utilizzare questi spazi. E questo ci ha portato a disegnargli in un certo modo, a dargli la possibilità di vivere comodamente l'ambiente dei ristoranti, dei bar, e di progettare le cose più diverse. Abbiamo portato un po' sempre di tradizione di cultura occidentale, non necessariamente solo italiana, ma occidentale. Questo l'abbiamo fatto in un progetto del Passion Five, che è un ristorante molto interessante all'interno della sede di una grossissima azienda, dove ci sono degli uffici, grossi uffici di rappresentanza e quelli del Presidente, dove questo ristorante è un ristorante di rappresentanza, di una società che ha più di 4.000 locali di proprietà legati al mondo del cibo. E doveva essere necessariamente un ristorante d'immagine, molto forte, molto carico di valori. Il valore che abbiamo cercato è stato quello di coniugare la cultura occidentale e la cultura del cibo. Un cibo studiato in maniera diversa, non necessariamente un cibo coreano, ma un cibo molto internazionale, forse più italiano-francese che non di altri paesi. Il Passion Five è un ristorante di 600 metri quasi. In questi spazi abbiamo cercato di raccontare degli spaccati della cultura, e soprattutto della pittura internazionale. Abbiamo creato delle nicchie, degli spazi che sono dedicati a vari autori, dalla Bicroft a Manet, piuttosto che a Dalì, a Liechtenstein. Quindi abbiamo attraversato un percorso culturale di qualche secolo, all'interno del quale questi artisti hanno creato delle linee, degli stili molto forti, molto riconoscibili. Cosa c'entra tutto questo col cibo? Per noi è stata l'occasione di creare un art-restaurante, dove in questi 600 metri quadri, su oltre 150 posti a sedere, ci sono delle sale tematiche. Sale tematiche che vengono servite da due lunghi corridoi, che sono due gallerie d'arte, che si vestono con quelle che sono delle esposizioni temporanee di quadri disegnati, dipinti da artisti, sempre sul tema cibo, pannelli che scorrono, che si muovono, che accolgono opere, che creano quinte, che creano sale, per poi andare a dividere questi spazi che sono dedicati a questi artisti. E per ogni artista c'è una sala con un menù diverso. Il menù è tratto dei colori di alcune opere. Il menù è studiato da dei cuochi bravissimi che sono riusciti a interpretare i colori di un artista per farlo diventare un piatto e viene servito come un quadro, però con dei gusti che sono molto occidentali, molto nostri, molto legati alla tradizione degli artisti che hanno prodotto quei quadri. È stato tradotto un'arte in cibo, è tradotto in colori e in gusti diversi. È stato interessantissimo confrontarsi in questo modo, perché ci ha dato la possibilità di esplorare altri campi, altri settori e di condividere questa esperienza direttamente con i nostri committenti, che sono state delle persone indubbiamente molto illuminate in tutto questo.